Che prendi? Una centrifuga, tu? Un caffè. Te la porto io. Grazie a te. Chiara! Marco! Ma come stai? Sembra una vita! Allora? Allora che ci fai qui? Eh niente. Guia, Chiara, Chiara, Guia. Ciao. Siamo passati qua per caso praticamente. Ma dai, allora era destino. Senti, noi ci stiamo prendendo qualcosa, vuoi una centrifuga? Ma dai, la centrifuga è da sfigata che non vuole ingrassare. Prendo un caffè, grazie. Va bene. Insomma, tu sei un'amica di Marco? Sì, più o meno. Procedente. Ricevuto. Alla sinistra! Alla destra! Io e Marco non ci vediamo da tantissimo, però ha sempre un buonissimo ricordo di lui. La tengo sotto mira, attendo un segnale, signore. Oppattivo presentimento, signore. Ho detto di stare calmo, soldato. Tra noi non poteva funzionare, eh, perché io sono troppo indipendente. A lui serve più una zerbino. È una ex, signore. Ripeto, è una ex, dobbiamo abbatterla. Signore, ha un livello di pericolo 5, è il massimo. Magari è solo triste e delusa perché lui l'ha lasciata. L'ho lasciata perché dovevo partire per New York. L'ha lasciata dove, signore? Non ce la faccio. No, non posso. Signore, non ce la faccio. Non farlo! Adesso sono tornata. Mother! Eccoci qua. Amore, questo è per te? Era una ex, dovevo sapere. Come l'Afghanistan? Quando sei tornata? Hai visto? Da due mesi. Da due mesi? Sì. Ti sei fatto a due anni di io. Da pochissimo. Ma la fine, quant'è questa stanza? Comunque ce l'hai sempre belli i capelli, eh? Sì, ma me li voglio tagliare perché ce la veramente non ce la faccio più. Buona. Senti. Marco, scusami. Ti chiedo veramente scusa. Scusa, Chiaretta. Dobbiamo andare perché ho quell'appuntamento importante e avrei bisogno che tu mi accompagnassi. Come no? Certo. Scusa, ma... Scusa. Eh? Andiamo. Preparatevi a sparare. Oh, Chiaretta, poi ti chiamo così mi dici di New York. Ciao! Simpatica, Chiara? Sta con una donna adesso. C'è che poi lei lesbica non ce la faresti mai, vero? Sì